la seconda l'inizia inizia fra i tedeschi e gli italiani completamente cambiata la strategia l'italiano è andato giù il presente che tenta di reggere, stanno tentando di portarlo giù con il ginocchio a terra ma sta resistendo un altro italiano a terra qua la faccenda si fa dura c'è un Marshall che sta bloccando un tedesco, siete quasi pari di nuovo c'è un 3 contro 2 in atto c'è un tedesco che è stato portato fuori dall'inizia perché si è staccato una protezione poverete la sicurezza è al numero uno e c'è di nuovo un fight il problema è che come vedete come vedete il fighter germano c'è il tedesco che sta facendo solo con il peso il blocco del combattente italiano per cui è una risoluzione a 3 contro 2 qui da questa parte l'italiano è andato giù si corre, corre a difendere il compagno ahia, è un 4 contro 1 no 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 no